sono delle filippine e vorrei darti questo ti ricordi questo ha un cerebro al palso e voleva dirti che sta pregando per te e volevo chiedere un rosario per lui ti ha dato una madonna che ha fatto a piedi col suo piede e voleva assicurarti sempre della sua preghiera questa è la sua lettera per te e poi l'ultima volevamo chiederti la tua benedizione per santa filomena le devozioni che vogliamo portare avanti grazie questo è il nino grazie un altro nino padre tre anni fa sono un seminarista no adesso sono fuori e voglio chiedere la tua preghiera perché oggi sono in disegnamento per ritorno al seminario per oggi sono un trattore santo padre per la volontà di anche per ora è un braccio a contatto grazie Grazie! 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 Grazie a tutti!